Buon pomeriggio a tutti, siamo di nuovo all'Hotel Melià, al Milano iFidelity, questa è la seconda giornata che si sta quasi per concludere. Sono in compagnia di Motsue, Product Manager Audio e Video Technics, che avete una spettacolare saletta al piano terra, come al solito direi, e avete alcuni sistemi audio con tutti i prodotti Panasonic, dall'A alla Z, quindi dalle sorgenti all'amplificazione, ai diffusori, con l'aiuto di Gianluca Di Felice, collega stimatissimo, anzi che era già in Abbi Magazine tempo fa, e volevo da te, a parte una panoramica sui prodotti, e soprattutto un feedback su questa manifestazione temuta dai più, con una grande incognita, invece come è andata secondo te? È andata benissimo, siamo tornati contentissimi a questa fiera, finalmente dopo due anni possiamo presentare la gamma nuova, e quella diciamo tradizionale di Technics, ai utenti finali, e incrociare direttamente con loro, e dare lo spazio di ascolto e il tempo di ascolto, fatto molto bene, grazie a questa sala splendida del Hotel Maria di Milano. Dunque abbiamo presentato oggi tre gamme di Technics, come sapete i Technics è il marchio, il proprietario del marchio Technics e Panasonic Corporation, abbiamo presentato il top di gamma Reference Crasse, recentemente ha avuto uno svolto interessante con l'amplificatore integrato SU R-Mine, e poi il grande Crasse medio della gamma, anche qua c'è una grandissima novità con l'integrato SU G700 M2, compatibile anche con MC, insieme a SL-1200G, che ha avuto il colore versione nera, anche questa è stata l'anteprima. Dunque non ci manca anche l'entry Crasse, quindi premium Crasse con la speaker SBG600, speaker per la scaffare, più SL-100C, un entry-level giradischi nuovo, disponibile anche ad online. Quindi tantissimi prodotti, comunque una sala che ormai conoscete molto bene, immagino, che riuscite a sfruttare veramente bene, larga, che riesce anche a contenere parecchie persone, tutti contenti, e poi c'è il grande Gianluca con la sua selezione musicale, che è veramente in gamba per trascinare... Sì, sì, Gianluca ci ha aiutato molto per selezionare i brani, piuttosto che per impostare la sala. Siamo abituati ad utilizzare questa sala dell'hotel Merià, sala gioia, ex ametista, però è diventata una nuova sala, grazie all'istrutturazione recente dell'hotel Merià, e l'ascolto è stato migliore decisamente. Benissimo, ti ringrazio Muzue, sicuramente ci vedremo presto per alcuni eventi Technics, magari in uno dei dealer dei punti vendita italiani. Grazie ancora per il tuo tempo e a presto.